...diventare comunque momento di difficoltà anche per chi dovesse gestirmi e quindi insomma in questo senso io spero personalmente che il sindaco faccia un passo indietro e al di là della nostra mozione che è dovuta, voglio dire politicamente, proprio perché ovviamente non potevamo fare almeno di questa situazione che si è creata, ma che questo possa servire al di là dei numeri, al di là delle scelte che saranno fatte in Consiglio Comunale, tutti i consiglieri, sia il sindaco stesso secondo me che decida di dimettersi proprio perché non ci sono più le condizioni che possano permettere di andare avanti nella campagna comunale così come ha cercato di fare fino ad oggi.